Guardi, la nostra prospettiva è lavorare per il bene dell'Italia, come abbiamo fatto fin qui, lavorare per il mezzo e con il mezzo di un partito grande e un partito unito. Recitava un nostro antico manifesto che mi è rimasto scolpito nel cuore, diceva così una grande forza politica per un grande paese, un grande partito per un grande paese. Questa è la prospettiva nella quale ci muoviamo perché coltiviamo ambizioni grandi, anzi grandissime. Fare un grande centrodestra che possa affermare i propri ideali e che abbia al centro una grandissima forza politica, cioè la nostra. E con il Presidente Berlusconi vi è un vincolo affettivo che non è mai venuto meno.